Cos'è l'assoluto? Un'idea filosofica? Uno spazio senza fine? Per noi di Chiaracolle è una tinta ricca ed elegante che si posa sulle pareti della casa come un manto. Riuscite a immaginarlo? Si chiama Absolute. L'effetto extra opaco, i colori pieni, la concentrazione di pigmenti, oli e principi attivi, tutto contribuisce a trasmettere una straordinaria profondità cromatica che richiama lo stile delle pitture naturali a calcio. Grazie a una formula innovativa Absolute offre una copertura straordinaria che garantisce una tinta uniforme eccezionale nei colori tenui. Ne sentite l'odore? No. Perché non rilascia sostanze sgradevoli al contrario delle pitture tradizionali? È facile da applicare? Certo. Perché non produce schizzi durante la rullata? Absolute lascia respirare le pareti e permette un perfetto scambio di umidità con l'ambiente circostante, evitando la formazione di condense e muffa. Formulata nel totale rispetto dell'ambiente, delle persone che la applicano e la vivono, è un ideale rivestimento per tutti i sistemi deumidificanti Keracol. Absolute è solo una delle straordinarie superfici di Color Collection. Volete saperne di più? Tutti i video sono disponibili su color.keracol.com